salve a tutti ragazzi benvenuti e bentornati qui sul canale di craig 79 siamo qui su farming simulator 22 come avete visto nel titolo siamo nel gioco ma andremo a vedere alcune cose intanto sta nevicando come vedete siamo a novembre 16 c'è scritto perché praticamente se voi andate a cambiare i giorni subito il giorno dopo che fate passare quel giorno lì vi imposta già le due giornate il primo vi verrà scritto novembre 1 praticamente il primo di novembre e dopo quando fai passare l'altro giorno sarà il 16 dopo sarà di nuovo l'uno e 16 praticamente sarà sempre così e come al solito all'inizio vi ricordo che se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale così potete attivare la campanellina sostenere il canale e attivare la campanellina per ricevere le notifiche poi mettete un bel like se vi è piaciuto il video condividetelo su un social per far andare avanti la serie di qua e di là e in più in descrizione trovate tutti i miei link per acquistare il gioco season pass dlc tutte quelle altre cose che ci sono se per caso volete fare del modding c'è anche la spiegazione c'è anche un cosa che potete vi fanno praticamente vi mandano dei video per poter vedere come utilizzare il programma blender tutte quelle cose lì e in più ci sono tutti i miei link social quelli di mondo game il discord come chi è già dentro ha già visto dei cambiamenti per entrare ora dovete cliccare su una reazione ci metterà 15 minuti più o meno massimo il bot per controllare se tutto a posto praticamente vi verrà dato il ruolo e potete vedere tutte le altre stanze alcune non le potete vedere tipo c'è una stanza ruoli che per adesso è soltanto per euro track e american track se volete fare i convogli e poi c'è una stanza in più anche per donatori che vedete potete vedere soltanto la prima che perché quella lì dove c'è il link che noi abbiamo aperto un server per donatori e praticamente noi intanto stiamo già preparando alcune cose il server è già online praticamente se voi fate una piccola donazione al server più che altro per mantenere il non cioè anche il server di discord ma per mantenere anche per la cosa lì e per non far entrare tutti perché uno perché se uno ha pagato almeno così ci tiene un po di più e non entra per fare poi se uno paga perché solo per rompere le scatole quelli saranno problemi suoi ci sono sempre quelli che pagano pur di andare a rompere le scatole agli altri però più o meno l'abbiamo fatto così dopo uno essendo che ha pagato gli scocciasi poi dopo viene bannato dal server e non può più entrare di qua e di là è ok praticamente vi verrà data il la passo per entrare nel server e potete decidere voi se ci sono ancora dei posti liberi perché potete avere fino a otto slot nel server c'è praticamente fino a otto fattorie due sono state già create una io e una quella di geso potete decidere se unirvi a una oppure farvene una vostra ce ne sono ancora sei libere quindi se per caso qualcuno si vuole unire così ok invece oggi andremo a vedere come migliorare cioè praticamente come si preparano e dopo la preparazione perché tutti i cosi che hanno modificato per la preparazione allora io partirei allora qui adesso hanno aggiunto nuove cose raccoglisiarsi trinciatrici aratri cioè poi hanno aggiunto lì le vangatrici e rulli questi sono praticamente le cose nuove allora le trinciatrici per migliorare un po il raccolto non so se potrebbero fare che tipo voi che le passate dopo ci avete una fase già di fertilizzazione adesso non so cos'è che possa fare praticamente dicono che se voi li passate dove ci sono le stoppie tipo quando avete raccolto il mais che voi praticamente lo titrate rimane la roba dentro e praticamente si chiama fa la pacciamatura che è più o meno in teoria credo che dovrebbe essere una cosa di non l'ho ancora provata quindi non vi posso dire però dicono che migliora la resa se voi utilizzate questo prima di utilizzare tipo un coltivatore o cose del genere ok e questo sono questi qui che questi qui quello più piccolo ve lo consigliano anche perché questi qui praticamente quando ci passate anche l'erba ve la trincia non è che tipo voi potete raccogliere dopo l'erba questo qui ve lo consigliano anche e negli oliveti e nelle viti perché è molto piccolo poi con una passata praticamente sono 1,4 ecco il ripuntatore è 1,5 e questo qui è 1,4 perché voi più o meno dovreste metterli più o meno adesso mi sembra che il trattore non mi ricordo se sono due metri più o meno cioè una cosa del genere però voi dovete metterli a una certa distanza anche perché ci dovete far passare vabbè in primi si deve passare il trattore e poi ci devono passare anche questi altri due qui dietro e poi ci sono quegli altri questi che sono quelli anche più grandi quindi questi quelli potete usare da altre parti questi che sono quelli un po più grandi questo che è anche stranissimo veramente sembra tipo un rullo questo qua e poi ci avete questo qui allora le grandezze com'è che sono allora questo qui è 12 6 metri e sono 200 cavalli questo qui è 5,8 e che è questo qui se a vederlo da così sembrava più grande poi abbiamo questo qui che è di 5,6 e poi vabbè abbiamo questi qui che sono quelli più piccolini che hanno bisogno neanche di meno vabbè che skin non è che hanno quello che sa bisogno di più cavalli è questo qui ma 200 per 6 metri non è neanche tantissimo poi invece c'è la funzione se voi avete la ratura periodica però ogni tanto potete utilizzarlo anche se non c'è bisogno è se volete fare se non avete utilizzare alcuni attrezzi perché allora praticamente dal 19 hanno fatto che non so se più avanti può capitare anche se voi seminate sempre frumento orzo c'è su un campo prima o poi vi chiederà sempre la ratura adesso questo non l'ho provato quindi però di solito nel 17 era ogni tre cosi ogni tre raccolti dovevi arare invece dal 19 era diventata la calce che ogni tre raccolti dovevi mettere la calce qui andava in base a cosa si seminava tipo nel 19 c'era anche la colza mais praticamente qui hanno messo le radici che sono patate barbabietole poi non so se è rimasto anche il mais di nuovo non mi ricordo da qualche parte c'è anche scritto quelli che praticamente servono più che altro principalmente credo che quelli che si piantano con la piantatrice potrebbero servirci tutto perché infatti questa quella piantatrice ti pianta proprio delle radici sotto e se serve anche il cotone e in più un'altra che è quella delle patate che c'è la seminatrice a parte che adesso manca la trovo a dire la verità dovrebbe essere in tecnologia raccogli patate l'hanno messa dove c'è la raccogli patate anche queste qui in pratica ti sembrano sempre quella cosa lì in quella maniera quindi questi sono tutte radici invece quelli che si mettono con la seminatrice in teoria non dovrebbero avere bisogno di questo però l'aratura non è che serve soltanto per cavare la cosa dell'aratura periodica e la stessa funzione ce l'ha la vangatrice praticamente aratri e vangatrici sono principalmente uguali l'unica cosa che questi vanno 8 km all'ora qui vanno a 12 km all'ora anche se la velocità però è più lenta un pochettino l'aratro perdete un po' di tempo perché c'ha sempre quella funzione lì che dovete per forza girare di qua di là quindi un pochettino però hanno praticamente la stessa funzione l'unica cosa che è più comodo se voi volete creare un campo è più comodo utilizzare questo che praticamente è proprio dritto quindi di grandezze abbiamo questa qui da 6 metri che però ci vogliono 360 cavalli questa qui da 4,9 300 questa da 3,5 200 se andiamo a vedere invece le vangatrici quella più levata che è 4,5 ci vogliono 200 cavalli che qui 200 cavalli iniziamo già a 3,5 che è più basso quindi ha bisogno anche di meno cavalli per avere questa qui come si vede 4,9 quella è 4,5 praticamente una metà tra questi due però ha bisogno di molti meno cavalli questo qui che ce ne vogliono 160 che sono 40 in meno ma ti fa 2 metri in meno quasi la metà quindi c'è anche quel vantaggio lì un'altra cosa che hanno di vantaggio è che voi dopo che utilizzate la vangatrice o l'aratro ve ne dovete fregare delle erbacce perché praticamente dopo che utilizzate loro due le erbacce non cresceranno nel raccolto che voi fate perché avete strappato proprio dalle radici e quindi poi ci avete fatto anche altri lavori ne avete soltanto scavato in profondità cioè questi ghi hanno anche una funzione che le strappano proprio le radici a differenza dell'areggiatore che ci avete sempre la stessa funzione dell'aratro che dovete passare dopo un tot però non ha quella cosa lì delle erbacce voi se utilizzate un arreggiatore i campi cioè praticamente non impedisce la crescita delle erbacce in teoria dovrebbe essere forse un po' più rallentata perché qui stavolta hanno messo o niente piano piano si vanno un po' più veloce fino all'ultimo che è quello che ho utilizzato io che dopo vedremo dopo che praticamente fa crescere molto velocemente cioè praticamente normale e però c'hanno un altro c'hanno un svantaggio che praticamente tirano su delle pieghe cioè il loro vantaggio qual è a differenza degli altri due lo vedete già principalmente allora questo qui vabbè questo ha bisogno di molti cavalli però a differenza dell'areggiatore è molto più veloce perché come vedete non è un arreggiatore la vangatrice andava 8 km all'ora questi qui praticamente tutti i 12 l'ultimo 15 con i cavalli 134 metri non è tanti perché questo qui non è tanto è solo questo qui perché questo qui c'ha anche come si vede c'ha anche un'altra funzione quello lì se noi andiamo a leggere sopra un arreggiatore prepara i campi per la semina può essere usato al posto di un azatro inoltre questo macchinario ti dà la possibilità di seminare direttamente perché questo qui voi c'è la configurazione come vedete che se per caso mettete questa cosa qui potete seminare come al solito però soltanto l'erba il rafano è praticamente la stessa funzione che c'ha anche il sarchiatore ce ne sono alcuni tipi di sarchiatori che come si vedeva nel 19 potevano anche seminare erba rafano e colza quindi per quello lì che questo qui ha bisogno di un po' anche più di cavalli perché se ci mettete questo c'ha anche la funzione dietro che lui fa questo qui prepara il campo e poi dopo con gli ultimi mette il seme per terra quindi potete fare quella cosa lì invece questi altri che non hanno quella funzione lì come si vede di cavalli ne utilizzano veramente pochi questo qui è uno molto bello grosso questo ne utilizza parecchie però c'è una bella differenza questo qui è il doppio questi sono anche 8 metri cioè non è piccolino cioè 8 metri è abbastanza poi abbiamo questo qui invece che è più piccolo però anche questo qui può questo qua però cos'è che fa? ah no questo qui è l'ultimo infatti mi sembrava strano l'ultimo questo qui può anche fertilizzare praticamente avete lì il serbatoio del fertilizzante solido ah sì questo qui è da 4 metri infatti mi sembrava strano dicevo io non stavo guardando la lucina sotto infatti 150 4 metri 4 metri questo qui è quello da 8 metri questo qui infatti e poi abbiamo questo qui che è 6 metri abbiamo bisogno di più o più cavalli perché è grande più che altro perché c'è anche la funzione che deve deve anche fertilizzare il terreno quindi però tirano su molte pietre le pietre per come ho capito io non dovrebbero essere contro il raccolto praticamente voi se avete le pietre non dovreste fare meno raccolto più che altro si rovinano i mezzi tipo voi utilizzate un arreggiatore escono dei sassi della madonna ci passate con una seminatrice senza cavare le pietre cosa succede? che praticamente prendete delle gran botte e praticamente se usate un arreggiatore vi conviene sempre cavarle principalmente le pietre perché vi tira su quelle anche grosse quindi potete rovinare invece quelle più piccole in teoria dovrebbero rovinarsi un po' di meno se voi non volete spendere dei soldi per quelle cose lì e questa è tutta la roba di queste qui invece passiamo ai coltivatori ce ne sono tre tipi ci sono i coltivatori cioè in teoria ce ne sono quattro tipi due nei coltivatori erpici a dischi e erpici ci sono due tipi di erpici e due tipi di coltivatori facciamo così ci sono i primi che sono quelli più piccoli e praticamente sono quelli i coltivatori regolari e i coltivatori superficiali vabbè ci sono questi qui che sono praticamente molto più sono un po' più profondi quelli più piccolini hanno una larghezza di lavoro cioè praticamente la larghezza di lavoro e requisiti di potenza si differenziano in termini di larghezza e lavori poi sono molto efficaci con come si chiama con le erbacce cioè praticamente dovrebbe essere rallentato credo perché dove ho letto io non c'è scritto che non crescono proprio sono molto efficaci che praticamente ci mettono molto tempo per uscire hanno una velocità di 15 km all'ora più o meno come vediamo si tutto 15 poi ci sono invece i coltivatori poco profondi hanno una larghezza di lavoro più ampia quindi come si vede questi qui sono tutti quanti molto piccoli più o meno non so se già da questo qui no questo qui però si già da questo qui secondo me dovrebbero essere un pochettino di profondità ce l'ha però ce ne sono alcuni ecco forse anche questi qui questi qui dovrebbero essere meno profondi eh questi qui sembra ancora meno forse o intende questi qui che sono che sembra già ancora abbastanza profondo no questo qui forse neanche tanto a dir la verità c'è più che altro quelli dietro ma quelli davanti sono un po' meno fino arrivando a questi qui che questi sono e praticamente questi qui cioè essendo che sono più larghi avete avendo un fabbisogno poi anche energetico minore sono più grandi però non aumenta di molti cavalli qui ci vogliono lo stesso parecchi cavalli perché quando sparate su un 15 metri e 7 cioè pesa 12 tonnellate quindi lo stesso che avete bisogno di parecchi cavalli eh per poterlo portare questi qui praticamente allora praticamente per vedere quali sono quelli lì quando ve li utilizzate praticamente non scavano le pietre questi qui vi preparano il campo non scavano le pietre ma sono più sono più costosi perché sono anche nettamente più grandi e sono un po' meno essendo che uno scavolo non è che le pietre quindi vuol dire che non vanno molto a fondo sono un po' meno efficaci sulle erbacce quindi in teoria cresceranno un po' prima di quelli più piccoli però se uno ha dei campi giganteschi non è che si può mettere a coltivare con uno da così per non far uscire le pietre poi ci sono altri mezzi dopo vi farò vedere contro le pietre anche dopo che avete c'è un attrezzo che serve dopo aver seminato però principalmente vi conviene utilizzarlo con delle pietre piccole quindi più che altro dopo che utilizzate eh sì dopo che utilizzate i coltivatori quando utilizzate l'arreggiatore dovete stare attenti perché le pietre sono molto grandi e poi abbiamo come abbiamo detto questi qui gli erpici a dischi e gli erpici potenti gli erpici a dischi hanno bisogno di meno cavalli questi qui mi sembra che anche questi qui non dovrebbero sì infatti perché anche gli erpici che ho usato io non come si vede non distruggono neanche proprio tutto il raccolto perché quello che ho utilizzato io come avete visto il coltivatore c'è l'erpici a rotante in pratica non sono uscite pietre ma un pochettino di rimasuglio è rimasto lo stesso quindi hanno cavato soltanto un po' la parte superiore questi qui hanno una velocità di lavoro molto elevata richiedono poca potenza hanno un prezzo inferiore rispetto ai coltivatori normali non scavano le pietre ma praticamente crescono velocemente come avete visto da me qui a me dopo praticamente la prima volta era uscito era uscita la colza il secondo mese erano già iniziati a uscire che non sono neanche riuscito a levarle tutta di la verità anzi questo qui me l'ha levata anche di più non so se dopo ci metterà un po' di tempo come si vede qui alcune volte il percentuale non so se è stato colpa anche perché io ci avevo erano crescite troppo alte mi sembrava di vedere che ogni tanto quando ci passavo con le ruote me la abbassassero un pochettino e poi dopo quando ci passavate forse non me la cavava però come si vede anche passandoci il sarchiatore io ero al 100% ci ho passato il sarchiatore non è che ti pulisce proprio per bene in teoria dopo ci vorrebbe forse lo stesso un erbicida per poter cavarle ok e poi dopo infine ci sono anche delle seminatrici sono tre tipi di seminatrici però due hanno un'altra funzione in più e una in meno praticamente sono queste tre qui le seminatrici la semina diretta queste due qui hanno anche la fertilizzazione come vedete perché questo qui può anche fertilizzare questa invece no infatti come si vede questa qui ha otto metri questa a sei metri ha bisogno di più cavalli perché questa qui ha bisogno anche della potenza del fertilizzante quando quando va quest'altro uguale sono sei metri c'ha 210 questa qui 2,40 però non potete fertilizzare dovete rifare un'altra cosa queste qui praticamente sono molto comode perché con una passata unica utilizzate il coltivatore e con un'altra passata seminate le prime due sono ancora questa qui è la migliore perché sono vabbè che tutte e due sono sei metri a dire la verità queste qui però questa pesa di più però questa va anche più veloce queste due qui sono da sei metri questa qui è da otto sono due metri in più però pesa anche di più anche perché vabbè forse ci avrà anche più capacità perché queste qui sono tutti di semi sono 3.100 ma tutti semi queste qui invece sono 5.500 anche questa qui c'è 4.000 bisogna vedere com'è messa la suddivisione che un tot sono di fertilizzanti di semi e un tot sono di fertilizzanti quindi non è che sono 5.500 di semi potrebbero essere 2.500 di semi e 2.000 di fertilizzanti quindi c'è anche questa cosa qui ti dice che praticamente alcune possono coltivare che sono queste tre qui e quei due possono anche fertilizzare i rocciositivi possono essere piuttosto elevate a confronto alle altre seminatrici perché se noi guardiamo questa qui che praticamente questa qua neanche fertilizza sono 12 metri e ha bisogno di 180 cavalli pochissimi una cosa che hanno cambiato questa qui questa qui di solito tutte le volte che secondo me era anche sbagliato perché non ce l'ha il coltivatore questa qui davanti però la mettevano che tu praticamente potevi seminare senza niente questa qui è da 18 metri ci vogliono parecchi cavalli perché passiamo da 12 metri a 15 metri a 7000 litri pesa molto di più poi cioè c'è un gran peso quindi per portarla perché non conta soltanto la propria cosa conta anche il peso cioè se è una macchina che pesa di più c'è anche 2000 questa qui poi fertilizza pure infatti c'è anche il serbatoio più elevato perché un tot è per il fertilizzante in più quando lavora deve utilizzare spruzza sia i seme che il fertilizzante deve lasciar cadere quindi c'è anche questo lavoro in più e così via praticamente i requisiti sono più elevati l'investimento ti dicono anche che ne vale anche la pena poi alla fin dei conti però non scavano le pietra sono i coltivatori praticamente sono quei coltivatori che abbiamo visto quelli più alti gli stessi che abbiamo visto quelli più grandi sono quel tipo di coltivatori lì che praticamente non vanno in profondità e non scavano le pietre e praticamente essendo che non scavano la crescita delle bacce è allo stesso veloce però vabbè lì se uno ha questa qui ha fatto un lavoro solo può benissimo anche utilizzare uno che butta l'erbacce cioè l'erbicida da più avanti quando praticamente sono già mature uno cosa fa ce le passa e praticamente è a posto e questa è tutta la roba di queste qui poi questa è quella roba della coltivazione poi adesso passiamo un attimo a un'altra cosa all'erba e all'utilizzo praticamente all'utilizzo dei rulli ci sono praticamente dei rulli ci sono i rulli regolari e i rulli d'erba adesso praticamente non ho ancora visto più o meno quali sono quelli d'erba allora che schifo potrebbero essere bisogna vedere in che categoria l'hanno messi proviamo a vedere se l'hanno messi nella categoria vabbè in teoria possiamo guardare anche qui noi dobbiamo fare erba ah cazzo qua non ce l'hanno messo il rullo o in teoria sono gli stessi però se l'utilizzi da una parte fanno una cosa e se l'utilizzi da un'altra fanno un'altra perché dove ho visto io non mi pare di aver visto che c'era scritto proviamo ad andare a vedere nelle falciatrici se hanno messo per caso qualche cosa secondo me sono sempre loro però se lo utilizzate scrivetelo nei commenti se sapete dov'è che però io di rulli vedo scritto rulli vedo solo loro però in teoria dove l'ho visto io dovrebbero vediamo qua sopra cosa dice con un rullo puoi migliorare la qualità dello strato superiore del suolo nei tuoi campi non dice niente più che altro però adesso vi dico praticamente a che cosa servono allora i rulli non li dovete utilizzare prima della semina praticamente i rulli li dovete utilizzare dopo la semina che praticamente che cos'è che servono questi rulli voi praticamente avete seminato con un rullo quando ce lo passate si considera il terreno e quindi aumenta praticamente i semi sono già nel terreno quando il campo è già coltivato cioè coltivato i terreni sono già lì come si chiama lì nel coso perché praticamente voi quando utilizzate il coltivatore cosa succede abbiamo visto prima avete delle pietre piccoline se voi per caso essendo che sono piccole non avete ancora il macchinario per raccogliere le pietre oppure anche se le utilizzate però per caso può capitare che qualcuno vi scappa di qua e di là praticamente cosa succede che qualche pietra rimane oppure voi avete seminato con le pietre lì voi ci passate con il rullo praticamente cosa fa sto rullo vi vi abbassa praticamente vi rimette le pietre dentro il terreno così dopo voi non rovinate i mezzi perché ho usato un raccoglitore di pietre perché vedi se tu non hai utilizzato il raccoglitore di pietre com'è che fai? è un rullo praticamente le spingerà sul terreno perché viene scritto che le pietre che voi lasciate sul terreno possono zaneggiare le macchine perché anche i trattori possono sì vabbè che risolto loro però se prendi una bella pietra e non te ne accorgi che c'è una pietra la prendi molto potente un pochettino la botta la risende pure il trattore però principalmente i macchinari tipo è già pronto il campo lo devi trebbiare c'è delle pietre gigantesche passi con quella per tagliare con la trebbia la sua barra può sbattere contro una pietra anche in pratica può sbattere soltanto lei ma anche quello lì che praticamente il rullo che c'è davanti può incastrarsi piegarsi di qua di là quindi praticamente serve principalmente per questo invece il rullo d'erba ti dice che sono diversi vabbè non lo so praticamente li dovete utilizzare voi facciate l'erba e devono essere utilizzati solo lì perché se voi li utilizzate prima quando è maturo praticamente vi ritorna allo stato di prima dopo che voi ce lo passate poi sapete già voi che praticamente quando falciate l'erba uno stato di fertilizzazione vi rimane già quindi ci avete sempre uno quando utilizzate l'erba se voi utilizzate praticamente questo rullo qui su l'erba praticamente vi aggiunge un altro secondo stato di fertilizzante quindi non c'è più bisogno di utilizzare altre cose per fertilizzare voi avete un campo di erba che avete fatto voi voi praticamente cosa fate falciate il campo avete una fase passate il rullo avete la seconda fase di fertilizzazione però la seconda fase l'avete soltanto con l'erba perché forse è probabile che schiacciandola non lo so ci avrà qualche cosa che praticamente va a concimare con quel pezzo di erba che è rimasto non so schiacciando vi fertilizza leggermente il campo invece con la semina serve per abbassare le pietre se per caso voi non avete utilizzato un avete utilizzato il coltivatore ci sono le pietre piccole non avete quello per le pietre avete seminato e volete cavare le pietre ci è passato un rullo così perché adesso io non so quanto è che costano quello per le pietre c'è anche quello più piccolino vabbè in teoria non è che costano neanche tanto però dovete tener conto che dovete avere anche qualcosa dovete raccogliere e metterli lì di qua e di là fare tutte queste cose qua però praticamente c'è questa funzione qui ah più che altro è la larghezza forse questo qui quanto è largo allora questo è largo due metri quindi questo due metri quattro questo cinque metri cinque ma vi prepara anche più o meno il campo questo qui i rulli se andiamo a vedere ecco 12 metri 3 quello più piccolo 24 metri ci vogliono 160 cavalli in quello più piccolo quello delle pietre non credo che dovrebbero aver bisogno chissà di quanti cavalli beh sto cavolo questo qui che passa a questo qua no questo qui ha bisogno di poco ah però questo qui ci sta molto più pietre se vedete qui ci stanno 3-8 metri cubi di pietre è 2 metri 4 ci vogliono 200 cavalli questo qui 100 cavalli 2 metri 2 e 3 questo qui è quello che ci vuole di meno però c'è la funzione che vi prepara anche non vi cava solo le pietre vi prepara pure il campo perché avete i cosi lì davanti quindi vi prepara anche il campo perché mentre lui raccoglie vi prepara il campo invece questo vi cava solo le pietre c'è una bella differenza che ci vogliono cioè se andiamo a guardare i metri che sono qui ci vuole parecchio se uno c'ha dei campi giganteschi gli conviene questo con 160 cavalli se c'ha dei campi giganteschi c'è anche dei trattori elevati puoi utilizzare questo qui con 24 metri sai quante pietre cavi e così si è a posto poi è più o meno ecco adesso passiamo una cosa molto importante allora spardi con cime sapete che ci vuole il manure questo ci vuole il liquamo di gestato qui ci vuole il fertilizzante qui potete praticamente fertilizzante liquido e erbicida all'inizio se avete meno soldi vi consigliano queste perché cioè non costano tanto questo qui costa 25.000 non ti dicono neanche potenza richiesta configurazione cos'è che ti mettono i pesi l'unica cosa questi qui potete anche usare la calce potete spandare anche questi qui vi chiedono solo i pesi questo qui ha 42 metri quindi sai con 42 metri è una passata cioè fai subito subito l'importante è avere anche dei mezzi o lo dovete seminare quando è ancora piccola cioè il fertilizzante lo buttate quando è ancora piccola e poi avete questi qui che sono un po' più piccoli questo dipende cosa ci mettete questi qui hanno aggiunto questo qui gli erroratrici anche questi qui ci sono quelli questi anche sono abbastanza elevati questo è 24 27 e 33 quindi qui potete scegliere se aprirlo di più aprirlo di meno e questo qui uguale se aprirlo di più aprirlo di meno questo qui è solo 36 metri invece invece hanno fatto una modifica per questi due qui molto importante allora con il manure con il liquame in teoria credo anche con il digestato perché è la stessa cosa potete attivare non è che dovete spingere un pulsante c'è un modo semplicissimo che dopo andremo a vedere praticamente la doppia fertilizzazione praticamente voi con una passata unica da zero passate direttamente a due allora com'è che si fa allora andiamo a vedere questo qui questo qui ha velocità di lavoro 16 chilometri all'ora voi se andate a 16 chilometri all'ora fate soltanto una cioè praticamente da zero passata una da una passata due se invece ci andate alla velocità metà quindi con questo qui dovete andare se voi andate a 8 chilometri all'ora perché lo spruzzo in teoria è sempre uguale però se andate a 16 sul terreno ci finisce un tot se andate a 8 ci finisce praticamente il doppio perché andate alla metà sul terreno ci finisce la doppia del composto che voi buttate e per quel motivo si attiva la doppia fase noi adesso andiamo a vedere più o meno vabbè è sempre 16 questa quindi se andate a 16 ve ne fa una se andate a velocità 8 ve ne fa due cioè praticamente vi fa due cose qui uguale stessa cosa c'è questi qui vanno più o meno sempre tutte a 16 questi qui vabbè non hanno velocità perché dovete vedere in quell'altri e praticamente tutti 16 chilometri all'ora queste qui se voi ci andate quelli che possono fertilizzare perché questi qui questi che non hanno non hanno i metri allora questo potete fertilizzare questo qui è da trasporto questo è da trasporto questo uguale a quello che potete posizionare può andare a riempire gli altri questo uguale questo potete lavorarci perché vi dice 16 chilometri all'ora non vi dice i metri perché ci dovete mettere questo qui cioè questo qui funziona soltanto con questo perché se andate a vedere configurazione e configurazione questo qui essendo che non vi mette i metri dovete per forza il primo no vi metteva tutto il primo vi metteva 15 metri e 16 all'ora questo vanno insieme non so se forse da solo potete utilizzarlo ma non credo come trasporto ma no perché non ha i tubi credo per poter non lo so potrebbe anche funzionare che quando siete da soli quest'altro vabbè c'ha tutto perché ci ha già attaccato il coso che si apre quest'altro uguale tranne che la grandezza è uguale tranne che ci sta un po' più di roba poi avete questo qui che ci sta ancora più roba però questo qui va utilizzato insieme ad un'altra cosa stessa cosa questo qui come si vede se noi andiamo a vedere in combinazione praticamente potete utilizzarlo o con questo qui con questo della Zoon Hammer questo qui oppure con quello per attaccare per avere più grandezza questo abbiamo 6 e 2 questo abbiamo 21 metri e poi con il peso stessa cosa questo qui ah no questo qui ci potete attaccare soltanto non avrà l'attacco a 3 punti dietro questo invece c'è l'attacco a 3 punti dietro questo non ha l'attacco a 3 punti dietro no ce l'ha allora perché vabbè hanno voluto mettere ah no era perché era vabbè che avevo guardato questo quindi era rimasto qui quindi anche questo qui ci vogliono potete mettergli tutte e due che sono praticamente i due che mettete dopo questo qui è da trasporto quello più elevato ci stanno a 30 metri cubi questo qui invece potete lavorarci combinazione qui ci potete veramente mettere soltanto però forse non è neanche questo qui è uno che viene dopo è questo qui 4XL questo è da 30 metri perché questo contiene molto di più poi avete questo qui che può utilizzare praticamente il 2 questo qui e anche quello 4XL più vabbè tutti i tipi di pesi ti mettono quindi praticamente lui può utilizzare questi due qui che è questo qui da questo da 7 metri questo da ammazza 36 metri quindi ancora più grande del 4XL questo qui 36 metri e questo qui sono praticamente quello del pack del class che c'è il suo class questo qui è per trasporto e questo qui invece è per lavorarci però ci dovete mettere in teoria anche quello lì ti dice 16 km questo qui forse può anche spruzzare no non mi dici i metri quindi in teoria non può spruzzare questo qua questo qui è da utilizzare soltanto con quello lì questo qui invece questo qui dovrebbe essere solo da trasporto perché non mi dice la velocità anche se questo qui la velocità te la mette lui quindi non è detto che anche questo qui non lo puoi utilizzare per trasportare vediamo un po' cosa che dice nell'informazione carabotto espandere i quam per fertilizzare questo carabotto ha bisogno di un distributore ah si esatto se ci mettete questo qui infatti qui come se vede hanno messo sia la velocità che i metri quindi lui guarda la velocità i metri di questo questo qui però questo qui in teoria credo che anche da solo forse lo potete utilizzare anche per il trasporto non lo so perché questo qui in teoria lo attaccate al trattore questo qui invece la velocità ve la fa direttamente già anche lui quindi invece questa qui questo qui combinazione ecco potete utilizzare vedi il suo trattore e questo qui combinazione però vedi come combinazione mette solo il trattore quindi bisogna vedere se quello lì non è l'informazione che ti mette perché adesso non so se in quelli di trasporto mettono un coso diverso quello di trasporto è questo qui eh no questo è questo ti dice che è per il trasporto vabbè questo qui adesso bisogna provarlo per vedere se e questo qui praticamente è quello per poter riempire tipo se voi piazzate in teoria non so se ce l'ha anche questo qui sì ce l'ha anche questo se funziona adesso bisognerebbe provarlo voi mettete il tubo qua dentro oppure in questi qui posizionabili questi qui che hanno sempre quello lì voi ci mettete il tubo che poi in teoria ce l'hanno anche altri però bisogna vedere se funzionano con questo qui voi aprendolo potete mettere lì il tubo in quel punto e lui dovrebbe caricarvi in automatico sia questo che questo qui quindi hanno questa funzione qui poi vabbè c'è sempre la funzione dei sarchiatori che quando per le prime fasi potete utilizzare questo qui per l'erbacce oppure quell'altro poi c'è la cura ah eccolo qui il rullo per i prati è vero c'era la cura dei prati vedi che l'abbiamo trovato alla fine quella è il rullo che poi ce n'è anche più di uno anche questo rullo qui stavolta c'è una funzione che serve a qualcosa a differenza del 19 che non ho mai avuto visto cosa significasse questi qui sono anche questi qui credo dei rulli perché c'è un rullo qua dietro sì questi qui sono i rulli eccoli qua questo qui però è uno che puoi anche seminarci credo esatto è sempre la solita che ci puoi seminare erba colza e rafano quindi questo qui in teoria quando lo sepassi la prima volta non so se dovrebbe fare qualcosa però perché essendo che non c'è ancora l'erba quindi però praticamente questi qui il rullo compatta il rullo compattatore e i sarchiatori migliorano il raccolto dei tuoi campi vabbè qui praticamente ah questo qui dovrebbe essere questo qui qua come si vede sì c'ha anche un po' mezzo un sarchiatore davanti alcuni questi qui sono i rulli che vi dicevano che praticamente anche questo qui in teoria credo che potete aggiungerci la seminatrice davanti cioè dietro che praticamente dopo può anche seminare quindi praticamente questi qui li abbiamo trovati alla fine bastava leggere cura dei prati praticamente questi qui sono i rulli per i campi per la semina normale e questi qui sono i rulli che praticamente potete utilizzare per avere la seconda fertilizzazione dopo che avete sfalciato il campo e qui più o meno tutto il resto è tutto uguale cioè e questa qui è tutta la roba per praticamente poter avere hanno fatto questi cambiamenti qui che ci sono alcune cose se volete che adesso ne stanno aggiungendo degli altri dove l'ho visto io voi adesso ultimamente aspetta che adesso ve lo faccio vedere usciamo dalla partita un attimo vi faccio vedere dove vedete praticamente tutte queste informazioni allora esci dalla partita sperando che rimanga in gioco in teoria se esce subito dopo rientra il brutto è quando vi fa vedere subito il caricamento allora lì vuol dire che vi esce dal gioco eccolo qui voi adesso state vedendo questa cosa qui praticamente della Farmi Simulator Academy leggetevelo tutto e praticamente quando siete in gioco basta che spingete X vi va direttamente che aspetta adesso ve lo faccio anche vedere spingendo X praticamente aspetta che adesso vi cambio la schermata spingendo X praticamente finite qui qua vi dicono tutte le basi sul gioco introduzione dell'accademia salvataggio ad tutte le cose modificate poi dopo il lavoro il primo questo è praticamente scopri campi introduzione campi introduzione miglioramento della resa campi aratura di qua e di là poi ci avete questo qui invece istruzioni alle culture per adesso ci sono solo quelli in verde sono attivi questo qui in arrivo in arrivo infatti la pacciamatura è ancora in arrivo come anche la di vabbè questo che adesso è pure quel traduttore che dovrebbe essere di spruzzatura praticamente quello lì della disinfestazione quella roba lì semina questo qui il cavo le cava a pietre questo c'è scritto presto disponibile è ancora più lontano come anche qui abbiamo già queste in arrivo disponibili in arrivo in arrivo in arrivo in arrivo queste qui invece sono imparare come utilizzare macchinari prossimamente animali prossimamente praticamente fanno tutta questa cosa qui qui c'è anche un piccolo video che è quello che mi sembra che avevano fatto vedere quando avevano fatto uscire questa cosa qui però venite qui e vi spiegano tutte quelle cose lì tipo vedete l'aratura che vi avevo detto vi fanno vedere praticamente gli aratri le vangatrici e gli arreggiatori vi spiegano tutte praticamente tutte le cose questi sono i coltivatori i coltivatori poco profondi quelli a disco semina diretta poi avete erba e rulli questo qui dei rulli ecco vedi lo facevo vedere anche qui il rullo quello lì ah no questo qui quando seminava stava passando il coltivatore questo qui come si vede ci sono le pietre qui c'è anche scritto qui se ci sono piccole pietre vengono lasciate sul campo a caso della coltivazione e poiché non hai usato il raccoglipietra per rimuovere un rullo le rispingerà di nuovo sul terreno le pietre lasciate sul campo possono danneggiare le macchine e puntini puntini in teoria forse può danneggiare anche il raccolto perché forse c'è la pietra di qua di là poi ci sono i lulli d'erba che praticamente ti dicono che si può ottenere automaticamente una fase di fertilizzazione dopo che passa il rullo poi ti dice anche ti spiega se passate il rullo rotola se il rullo rotola sull'erba matura la sua fase di crescita si ripristina quindi praticamente tornate che quindi state attenti a non passare il rullo quando non dovete passarlo ok io direi che per questo video un po' tutto ho fatto un po' velocemente perché volevo farlo tutto in un video di qua di là però io vi ho dato un po' le basi poi voi se volete non avete capito qualche cosa potete scriverlo nei commenti oppure quando siete in gioco premete X della tastiera se avete il pad e L3 come vedete questo qui è quello del volante che ho preso con L3 praticamente entrate sempre in quella schermata poi come c'è anche scritto update questo qui è anche forse l'ultimo aggiornamento è stato fatto il 2611 non lo so vabbè però con questa funzione qui potete andare a vedere e sapere tutte le informazioni anche quelle che usciranno più avanti che adesso non ci sono ok per questo video è tutto un saluto da Greg79 come al solito venite a trovarci anche sul nostro server discord se per caso volete giocare a una nostra mappa che usciranno tra un po' anche delle live sull'altro canale sia di me di Jason non si sa se anche che se volete unirvi anche voi per adesso siamo già in un po' noi siamo un viaggio che possiamo entrarci e adesso se volete perché ci sono ancora altre posti il server è di otto posti però se uno entra non tutti credo che entreranno nello stesso momento quindi se per caso un altro c'è chi sta lavorando chi la mattina può entrare la mattina chi entra il pomeriggio anche voi potete vedere quando poter entrare il server praticamente quando uno esce non c'è nessuno dentro funziona cioè riparte in automatico c'è anche l'autosalvataggio quindi perché essendo che possono salvare solo quelli che entrano come admin però c'è l'autosalvataggio quindi adesso non ho visto di preciso quanto è l'autosalvataggio dopo ci vado a vedere quindi dopo per sapere tutte le informazioni del server chi ha donato gli verrà mandato in privato la password per entrare il nome del server così dopo quando andate in multiplayer lo potete trovare vi dico solo che dovete andare in multiplayer e partecipa e poi dopo da lì dovete sapere le informazioni ok un saluto da Greg79 ciao ciao a tutti ciao a tutti